La corsa è proposta sui 2020 metri, parte piuttosto di scosto Metello ed ecco che il lancio vede lottare Namek, RL e Merico. Viaggio probabilmente alla fine molla, anche se magari c'è il rischio che poi Merico molli a sua volta a Noa B. Vediamo un po', i due si sono parlati, dunque Merico al comando, Namek in seconda posizione, Pudley Trebbe in terza ed ecco profilarsi all'esterno la prevedibile avanzata di Noa B che punta decisamente al via. Vediamo se ci sarà scambio fra i due di testa e se sarà Namek poi a reggere l'avanzata di Noa B, 29,5 per i primi 400 metri. Così è infatti Namek RL a via libera da Merico e adesso è lui a mandare via Noa B, però deve ancora scendere alla corda, cosa che fa in questo momento però un po' intracciando Merico che comunque resta di trotto. E così il favorito Noa B è già al comando sul finire della seconda curva quando sono stati percorsi circa 800 metri. Noa B, Namek RL, Merico, Pudley Trebbe in fila indiana, in quinta posizione il numero uno di Placidats. Primo chilometro abbastanza veloce con Noa B dunque a dettare i tempi nei confronti di Namek RL, poi Merico, Pudley Trebbe, Placidats in penultima posizione orgogliosa OP e poi a chiudere il drappello orgogliosa OP insieme a Metello. Dunque continua a maramaldeggiare in avanti Noa B, sempre seguito da Merico in terza posizione, Namek RL più a ridosso in seconda posizione mentre adesso è Placidats a smuovere un po' le acque e a venire all'esterno. Viene a trovarsi adesso vicino a Merico, sposta Namek RL che per la verità sta dando qualche problema di assetto a Biagiolo Verde, infatti trova il posto interno Merico e lo infila. Placidats adesso è costretta ad andare in terza ruota sul compagno di allenamento, Pudley Trebbe serra lungo lo steccato ma scende in corda. Merico continua a guadagnare sul Noa B che però ha un vantaggio ormai assolutamente rassicurante, va a vincere davvero molto bene Noa B nei confronti di Merico mentre per il terzo posto probabilmente Placidats ha avuto la meglio su Namek RL. Dunque vittoria molto attesa del favorito Noa B, numero 5, 1,63 la quota, Lorenzo Larosa, Trainer e Driver. I colori sono quelli del signor Adriano Michele Laporta, alla piazza un sempre convincente Merico nei confronti di Placidats, dunque in numeri 5, 7, 1 l'ordine d'arrivo naturalmente ancora ufficioso della quinta corsa di Palermo. Grazie. Grazie. Grazie.